Anche quest'anno, come di consuetudine, è stato riproposto il tradizionale presepe vivente per le strade del Borgo Antico, giunto alla sua undicesima edizione, organizzato e realizzato dalla confraternita Operapia San Rocco. Il magico percorso che prende il via dall'ingresso sito in via Santa Caterina permette di rivivere la suggestiva atmosfera del passato, in cui storia, tradizione e spiritualità si fondano per lanciare messaggi di pace e fratellanza. Il presepe sarà aperto il 22, 26 e 29 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020 dalle ore 18. Grazie.